In Svezia tre uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver abusato sessualmente di una donna e di aver ripreso e trasmesso in diretta su Facebook lo stupro. Sarebbe successo nella notte tra il 22 e il 23 gennaio a Uppsala, circa 70 chilometri a nord della capitale Stoccolma. I tre innati tra il 1992 e il 1998 sono stati fermati dagli agenti che hanno fatto eruzione in un appartamento in cui c'era anche la presunta vittima. I principali sospetti si concentrano nello specifico su uno dei tre arrestati, spiega il procuratore capo. Non è il primo caso di registrazione e condivisione di crimini in diretta live sui social media. Non si stupisce questa criminologa. Non sono affatto sorpresa, questa è la triste realtà. Succede perché è possibile. Ci sono gli strumenti, un telefono cellulare dotato di una fotocamera, pessimi esempi, alcol, droghe o un bisogno di conferme sono le ragioni che spingono a postare sul web questi video. Il blitz degli agenti è scattato dopo la denuncia di diversi utenti che si erano accorti del video che è stato subito rimosso da Facebook che ancora in possesso di queste immagini è stato invitato a consegnarle alla polizia. Grazie a tutti.